Pesero Città che Legge inizia il suo 2023 con un nuovo progetto, questa volta rivolto ai più piccoli. Si chiama Piccole Voci per Grandi Libri, il nuovo ciclo di appuntamenti organizzato dall'Associazione La Voce dei Libri in cui bambini tra i 6 e i 12 anni leggeranno pagine di letteratura ad altri coetanei. Un progetto che coinvolge la Biblioteca San Giovanni, luogo nella quale si partirà il 15 gennaio con C'era una volta un re, storie di principi, regine e imperatori. Primo di quattro incontri che si terranno fino ad aprile. Coraggioso intanto perché affida, come abbiamo già sentito, ai bambini proprio la lettura consapevole di un testo. Consapevole vuol dire che i bambini, proprio che letgo, i piccoli lettori, si preparano alla lettura di questi testi e si preparano sentimentalmente ed emozionalmente a restituire l'emozione e i sentimenti di questi testi ad altri bambini. La nostra speranza è che appunto si crei un processo di empatia, un processo di mimesi naturale negli ascoltatori di tutte le età. Sono 11 piccoli lettori che sono figli o nipoti ovviamente di grandi lettori, quindi anche perché appunto il contagio della lettura è vero, diceva qualcuno, non si può insegnare la lettura come non si può insegnare l'amore, però si può contagiare e portare il buon esempio. Ecco, queste sono quattro belle occasioni di lettura ad alta voce che fanno della parola anche l'immagine, nel senso per una volta si ascolterà solo, non si vedranno le immagini. Le immagini le metteranno proprio i bambini nella loro fantasia, nella loro capacità e volontà di riflettere sulle cose che ascoltano e quindi diamo veramente alla parola il suo ruolo da protagonista, la parola che Don Milani definiva la chiave fatata che apre ogni porta. Ecco, questa è una bellissima definizione e penso che la porta della loro curiosità, dell'entusiasmo e dell'amore per i libri, visto che lo facciamo anche in un luogo per eccellenza, insomma, che è un luogo dei libri in cui le pareti sono fatte di libri, possa essere lo scopo di questa piccola ma importante iniziativa. L'importanza della lettura ad alta voce è destinata a contagiare e coinvolgere attivamente i giovanissimi e non, riscoprendo quanto può essere bello leggere ma soprattutto ascoltare un libro, ancor meglio se in compagnia. È un'idea delle voci dei libri di Lucia Ferrati, sono piccoli lettori che leggono a bambini, insomma, quindi per noi è parte integrante di uno dei compiti della biblioteca, cioè quello comunque di promuovere la lettura attraverso la lettura ad alta voce, una cosa che già facciamo col progetto Nati per Leggere, tra l'altro partirà a breve un corso per volontari all'interno del progetto Nati per Leggere. Quando le voci dei libri ci hanno proposto questa attività ci è sembrato fondamentale, naturale e siamo stati felicissimi di accoglierla all'interno della nostra struttura, come tutte le attività di promozione della lettura. In più, sia noi che le voci dei libri siamo partner all'interno del patto della lettura di Pesaro Città che legge, quindi ci sembra importantissimo dare in un qualche modo veramente spazio agli altri partner collaborando insieme a loro.